allora eh buonasera a tutti e tutte eh io sono Simona del Comitato Acqua Pubblica di Torino e vi do il benvenuto qui questa sera e vi ringrazio moltissimo per la vostra partecipazione così come ringrazio tutti eh quelli che interverranno in questa serata ehm questa questa iniziativa per noi è nata da una disavventura nel quale nella quale è incappato il forum dei movimenti per l'acqua eh alcuni mesi or sono eh ci siamo visti arrivare una multa da oltre sessantamila euro per affissione abusiva per eh alcuni manifesti che sono stati attaccati eh a Roma in occasione di una manifestazione per il decennale del referendum nel duemilaventuno eh la sproporzione di questa multa rispetto a alla contestazione era così così enorme da risultare davvero vessatoria e e però ci rendiamo conto che eh le misure repressive eh possono essere anche peggiori perché sappiamo come sapete tutti di tantissimi attivisti sindacalisti che si vedono eh combinare eh non solo multe salatissime ma anche ehm provvedimenti di tipo giudiziario eh che siano d'aspo o quant'altro e quindi eh questo ci ha spinti a fare una una riflessione su come si concilia il fatto eh di avere delle delle sanzioni veramente così dissuasive no dal fare attivismo eh rispetto all'articolo diciassette della Costituzione che tutela eh la libertà di manifestazione e la tutela in modo così forte che è un diritto che dovrebbe essere compresso limitato soltanto in occasioni assolutamente estreme e invece vediamo che questi riprovvedimenti repressivi sono sempre più all'ordine del giorno rispetto a degli atti che noi eravamo abituati a considerare eh la la normalità no del del dibattito del dibattito politico e quindi abbiamo sentito un po' l'esigenza di di parlare tra di noi perché pur riconoscendo che c'è appunto una scala nella durezza della della risposta repressiva noi sentiamo che c'è una matrice comune in tutti questi atti dalla dalla multa alla alla querela temeraria a a tutti i provvedimenti che che ormai abbiamo imparato a conoscere e siccome pensiamo che eh il dissenso e eh e anche il conflitto non siano delle brutte parole ma siano invece eh la la normalità no del del confronto democratico e siano indizio di di una democrazia sana ehm abbiamo ritenuto di di dover assolutamente portare un po' all'ordine del giorno questo questo argomento e di cercare quali sono eh le le matrici comuni in tutti questi provvedimenti perché siamo convinti appunto che i problemi per poter essere risolti debbano prima essere affrontati e discussi e quindi speriamo che questa questa serata sia il punto di partenza di un ragionamento che non si fermi questa sera ma ma che continui eh proprio con l'obiettivo di mantenere sana la nostra democrazia io eh mi fermo qui e vi ringrazio ancora e lascio la parola a tutti i nostri ospiti grazie 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 grazie